Ancora qualche giorno di attesa, dopo anni di degrado, e il lavoro di bonifica e di pulizia dell'ex sottostazione di San Vito Marina, più conosciuta come Zona 22, sarà concluso. Un tempo, un'area dedicata completamente alla socialità, poi nel completo abbandono a pochi passi dalla Via Verde, dove il prossimo 6 di maggio passerà il Giro d'Italia. Aria immensa gestita da associazioni del territorio fino al 2020, data di scadenza del comodato tra FS, provincia e comuni, poi il nulla tra muracadenti, rottami, erbacce e rifiuti, un disastro insomma. I rimpalli di responsabilità hanno bloccato ogni possibile intervento, ma in vista dell'estate ed l'imminente passaggio della Corsa Rosa, è stata così necessaria la bonifica ambientale per un decoro urbano. L'intervento è stato realizzato dal Comune in collaborazione con la Ecolan. Gli operatori sono impegnati a rimuovere ferchi vetri, infrantumi, immobilio rotto, immondizia di ogni genere. L'area sarà poi messa in sicurezza e chiusa in modo che nessuno possa entrarvi, segnalando così eventuali pericoli. Il sindaco di San Vito, Emiliano Bozzelli. La competenza non è del Comune, l'abbiamo già detto in passato, siamo in una fase di transizione durante la quale si chiariranno, io mi auguro a breve, la titolarità e le responsabilità sull'area che è comunque ancora di proprietà dell'FS. L'FS e la provincia di Chiedi fanno valere una proroga a tutto il 2023 del comodato scaduto a febbraio 2020, ma per noi, lo abbiamo già detto e scritto, non è così. Però interveniamo noi sull'area perché chiaramente sul nostro territorio e nell'interesse della collettività e di tutta la costa dei Trabocchi che in prossimità dell'estate si faccia un minimo di ordine sul territorio. Al di là del Giro d'Italia? C'è anche il Giro d'Italia e quindi bene così.